Amici e amici carissimi salve a tutti come sempre ben ritrovati si sa in una casa c'è sempre da fare dal tetto la grondaia l'infiltrazione sulla parete l'impianto elettrico i lavoretti sono veramente un'infinità e non si finisce mai e quando si aggiusta una cosa se ne rompono altre due questa purtroppo è una storia vecchia come il cucco e tocca a tutti noi ora tra le tante cose che mi mi urgono sistemare c'è un cattivo odore di risalita dagli scarichi del bagno purtroppo insomma quello è il punto più schifoso di tutta la casa e proprio da lì c'è questo ritorno di insomma effluvi poco piacevoli che va in qualche modo risolto difenderà probabilmente dalla fossa imof da qualche curva nell'impianto di scarico che non è stato eseguito ad opera d'arte ma io chiaramente non posso strutturalmente andare a fare degli interventi visto anche perché sono in affitto e non ne ho nemmeno tantissimo l'interesse di fare un aggiustamento strutturale quindi devo comunque correre ripari e trovare una situazione che ho trovato in realtà qualche tempo fa con queste pastiglie di tricloro queste sono pastiglie che comunemente si utilizzano per la disinfezione delle piscine questo è proprio il cloro che si mette nelle piscine e poi insomma si va regolando il pH in base alle quantità se cedono o se sono mancanti e con queste pastiglione di cloro quasi puro siamo nell'ordine del 90% si riesce ad avere un'ottima eccellente disinfezione per quanto riguarda piscine masse di acqua notevole in quantità e il costo alla fine di ogni operazione è abbastanza basso anche perché se considerate che un biloncino da cinque litri scusate da cinque chili mi costa circa una trentina di euro e sono disponibili anche confezioni da un litro diciamo che per un uso domestico per un uso di disinfezione casalinga dentro casa non di piscina una tavoletta di questa qua una pastiglione di questa dura veramente tantissimo considerato che sono tra i 200 e 250 grammi per ogni pastiglia in questo cosa ho scoperto qualche tempo fa che gettandone metà proprio dentro al water facendola cadere lungo il tubo di scarico per circa due mesi due mesi e mezzo sono stato assolutamente tranquillo cioè ha disinfettato tutto quello che era la fossa imof e ha ammazzato letteralmente gli odori di risalita non so fisicamente e visivamente cosa sia accaduto la dentro ma io vi assicuro che dal giorno dopo in cui ho gettato questa qua nel water stop fine del mio supplizio poi dopo due mesi e mezzo circa è tornata nuovamente la puzza e ne ho frazionata praticamente una pastiglia in quattro ce ne ho messo quindi circa 50 grammi stavolta nello sciacquone del water ovvero il bidoncino di riempimento dell'acqua che poi serve a detergere il il water ogni volta che uno va insomma al bagno a fare le sue cosine pinge il bottoncino e l'acqua scende in questo caso mettendo un quarto di questa pastiglia la dentro quindi circa 50 60 grammi in base se utilizzate la pastiglia da 200 da 250 grammi pure lì per altri due mesi sono stato nella pace più assoluta ho avuto in realtà anche un risparmio perché nel primo caso ne avevo utilizzata solo metà e mi era durata praticamente lo stesso tempo mettendola direttamente nel nello sciacquone del water visto che ho anche la comodità di avere questo sciacquone esterno quindi non murato comunque ispezionabile si può aprire il coperchio la botola superiore e glielo posso direttamente andare a mettere dentro e in questo devo dire che praticamente con una pastiglia ho la possibilità di tirarmi tranquillamente due mesi per quattro quindi otto mesi di pace e amore e soprattutto buon odore all'inizio percepisco sì l'odore di cloro specialmente quando magari il bagno viene usato poche volte nell'arco del giorno oppure sentirò l'odore di cloro quando magari sto fuori nel fine settimana poi torno a casa la prima volta che vado a usare lo sciacquone beh chiaramente questa pastiglia che è a lentissimo rilascio si scioglie veramente in due mesi praticamente essendo a lentissimo rilascio chiaramente essendo poco utilizzato lo sciacquone la volta che lo usi dopo parecchio tempo è molto più concentrato il cloro che si è andato a dissolvere in quei 5-6 litri d'acqua che possono contenere gli sciacquoni e quindi lì unicamente in quell'occasione si sente in particolar modo l'odore di cloro ma che poi non è un odore che disturba particolarmente quindi insomma meglio questo della peste bubonica che normalmente risale dai tubi ora in questo video vi faccio vedere come me lo vado a frazionare normalmente in tempi di pace quando non devo fare un video mi metto con uno scalpello mazzuolo e gli do due colpi insomma proprio per spaccarlo anche alla meno peggio ora dovendo fare un video e dovendo fare una cosa un attimino più carina ci vado col seghetto alternativo di cui ho preparato la base indossero i guanti e soprattutto mi metto un dispositivo di proiezione sia per gli occhi che soprattutto per le vie respiratorie perché ora tagliandolo, volendolo tagliare con un segreto alternativo chiaramente produrrò delle polveri polveri di cloro che non sono assolutamente benefiche per l'essere umano e nemmeno per il coronavirus se vi può interessare con questo dovendo disinfettare grandi superfici ci andate a nozze potete fare veramente delle edulizioni anche forti quindi altamente efficaci e rapide in quello che è la sterilizzazione perché il cloro si mangia tutto e soprattutto insomma risparmiate tantissimi soldi considerate che l'isoform ad esempio che è molto forte come disinfettante ambientale questo è quello per i pavimenti, protezione casa viaggia attorno allo 0,8-1% di diluizione di cloro qui una pastiglia è al 90% quindi fatevi voi il conto in base al peso della pastiglia da 200-250 grammi quindi quando andate a frazionare, pesare per fare la vostra mescola la vostra miscela in acqua vi toccherà anche frantumarla finemente beh potete veramente con una singola pastigliona recuperare tantissimi litri di disinfettante che poi io ad esempio quando si tratta di disinfettare il garage perché una volta mi sono trovato un topolino dentro o il giardino o ambienti comunque nei quali mi trovo a dover magari stare io uso questo bottiglione con pompa a pressione e me lo carico con i 5-8 litri di capienza con acqua e semplicemente questo cloro polverizzato e veramente risolvo molto molto facilmente comunque se vi occorre questo tipo di prodotto fate caso che c'è il tricloro e il dicloro tricloro è al 90% solitamente viaggiamo attorno a questi percentuali quindi è molto molto più concentrato molto più forte per ogni pastiglia il dicloro siamo attorno circa alla metà al 45% non oltrepassa il 50% di concentrazione in ogni pastiglia e si trova in vendita sia in pastiglie che nella forma in polvere io utilizzo la forma in polvere proprio perché consente un rilascio più lento più graduale in quello che è il liquido nella soluzione in quello che è l'acqua e quindi nel caso specifico dovendo depositarlo e godere del beneficio per un paio di mesi chiaramente mi conviene utilizzarlo in forma solida e non in polvere è ovvio che se avete la necessità di prepararvi dei disinfettanti ambientali forti e da utilizzare immediatamente quello in polvere magari nel caso di questa necessità è preferibile perché a un certo punto mettete pesate col cucchiaino insomma vi regolate sulla quantità e poi insomma la miscela con l'acqua ve la fate rapidamente ora mi vado a bardare con tutte le protezioni quindi maschera per le vie respiratorie occhiali di protezione per gli occhi perché comunque le polveri nell'aria le polveri di cloro sono fortemente irritanti e soprattutto anche insomma i guanti dei guanti di cuoio perché con un seghetto alternativo non si può mai sapere non è una grandissima protezione il cuoio con un seghetto alternativo però qualcosa voglio dire fa quindi a questo punto azione vi faccio vedere come vado a frazionare la mia pastigliona dopodiché sarà ovviamente destinata allo sciacquone del water gliela vado a ficcare così com'è e nel caso mio vi dico subito che non avendo uno sciacquone del water con una base particolarmente inclinata cioè il tubo il foro dal quale poi fuoriesce l'acqua è abbastanza piano tutta quanta la base è abbastanza piana se avete uno sciacquone dell'acqua che termina che termina nella sua forma in una V particolarmente accentuata beh quello che vi consiglio è di fare di effettuare un foro nel pezzo nella pastiglia anche in tela se volete che andrete a mettere al centro e con una cordicella ancorare la pastigliona a quello che è il coperchio dello sciacquone in questo modo chiaramente non andrà a intralciare nel sistema di apertura e di chiusura dello scarico dell'acqua che va a essere veicolata al water e quindi insomma risolverete per parecchio tempo il problema tutto sta chiaramente a quanto volete ottimizzare l'acquisto di questo tipo di prodotto del tricloro torno a dire tricloro e di quante volte volete stare ad aprire e chiudere lo sciacquone del water ogni anno io mi sacrifico lo faccio ogni due mesi due mesi e mezzo non è un grande sacrificio anche perché mi viene particolarmente facile l'accesso quindi vi posso dire che nel mio caso è così ma chiaramente se uno ce l'ha mezzo murato in alto posizione scomoda e proprio non vuole soffrire nemmeno un giorno la puzza che poi ti arriva tutta di colpo prepotente e allora magari gli andate a mettere la pastigliona intera e anziché durarvi un quarto due mesi magari vi durerà tutta quanta quattro mesi però voglio dire non è un costo eccessivo il costo eccessivo per come la vedo io è sempre il pacchetto di sigarette che è denaro bruciato e salute persa quindi adesso effettuiamo il taglio azione un po' eccessivo un po' eccessivo Grazie a tutti. Bene, come avete visto con un taglio si genera tantissimo trucciolo o polvere che chiamarsi voglia. Tutto sommato con un seghetto alternativo il taglio è pressoché buono. Mi è venuto solo questo un pochino più sfalsato ma diciamo che i due mesi se li può tirare. Ora me li imbusto e ne resterà uno per l'utilizzo attuale. Quindi questo ora me lo vado a mettere direttamente nello sciacquone. Che fare con la polvere invece? Beh chiaramente questo è cloro, questo si può riunire, si mette in un contenitore d'acqua, in un boccione d'acqua, si aggiunge acqua e abbiamo tranquillamente un disinfettante ambientale. Quindi insomma non si va a buttare nulla di tutto quello che si produce e vi assicuro che già con questo ci si fa tranquillamente un litro abbondante di buon disinfettante da utilizzare in casa o fuori in base all'occorrenza. Quindi vedete questo è quello che risulta buono per due mesi. Il costo? Il costo vi dicevo siamo sui 30 euro per la confezione da 5 kg. Guardate come vengono disposti dentro la confezione di 5 kg. Queste sono le pastiglione da 250 grammi. Sono quante? Fate voi il calcolo. Dovrebbero essere 25? No. Fatelo voi il calcolo. Matematicamente in questo momento è tardi e il mio cervello non funziona. Oppure insomma lo trovate facilmente nel contenitore da 1 kg e in questo caso qui a 200 grammi alla volta sono 5 pastiglie. Il costo? Siamo sui 14 euro 15 euro al chilo per questo formato e vi dicevo 30 euro per il formato da 5. Chiaramente in base alle vostre esigenze e necessità se lo usate solo in casa per questo discorso è un conto. Se lo utilizzate come poi disinfettante ambientale lo spargete lungo un piazzale, uno spazio particolarmente aperto, sì allora magari la confezione più grande vi conviene. Ricordate tricloro? È molto diverso dal dicloro. Magari vi andate a vedere un attimino anche le definizioni su Wikipedia così capite anche i diversi utilizzi. Ma fondamentalmente sono due disinfettanti che vanno bene in entrambi i casi. L'unica differenza tra dicloro e tricloro all'atto pratico per questo tipo di utilizzo poi insomma la vediamo soltanto nel portafoglio perché il dicloro praticamente ti costa la stessa cifra e ce n'è la metà. Quindi ok? Con questo è tutto. Spero che questo video comunque vi torni utile per qualsiasi esigenza di disinfezione, di sterilizzazione anche in base chiaramente ai tempi di applicazione e alla diluizione. E quindi insomma vedete voi. Ultimamente si parla molto di coronavirus. Questo è l'unico dei miei pensieri se devo dire la verità. Ma comunque ognuno poi insomma saprà il fatto suo. Un saluto e alla prossima. Ciao!